Nome e cognome? Flavio Favini, velista per caso? Ruolo e barca? Faccio il timoniere sul Blue Moon Soprannome? Favonio Possiedi una barca? Ho un G24 che mi serve per andare a mangiare di radelago In quale altro sport ti vedresti bene? Sono uno sciatore Una cena con chi? Carne o pesce? Pesce Campo di regata che ami di più? Germignaga Quello che proprio non sopporti? Non ce n'è No, non ce n'è Bionda, Mora o? O quello che c'è America Olimpiadi? Olimpiadi Prima cosa che guardi in una donna? Fate queste domande Vai con la domanda di riserva La seconda cosa che guardi in una donna? Vai con la seconda domanda di riserva Volvo Ocean Race o Vende Club? No, né una né l'altra Mai hai preso uno scaffo da una donna? No Luce, buio o penombra? Luce Un super portiere, quale? Essere invisibile Ok, dici bugie? Sì Mi hai detto In questa intervista dico Tutte In una parola che bambino eri? Ero, no, ero bravo Un custo? Grail Grail Soddisfatto delle risposte di questa intervista? No C'è una domanda in particolare No, non pensavo queste domande Te l'ho detto Ma uno doveva prepararsi prima C'è una domanda in particolare che volevi che ti fosse fatta e non ti abbiamo fatto? No, perché le temevo con le domande C'è una domanda in particolare C'è una domanda in particolare